Buona sera. Buonasera e bentornati. Focus stasera su Carapelli, Firenze. A parlarcene il General Manager Roberto Sassoni, a cui do il buonvenuto. Buonasera. Buonasera a lei, grazie dell'indito. Allora, parliamo di un'azienda famosissima che ci rende orgogliosi di essere italiani. Sto parlando di Carapelli, il famoso olio conosciuto in tutto il mondo. Poi tra l'altro, al di là di tutto, di quello che uno pensa anche durante la pandemia, è andato invece molto bene il vostro business, ha fatto più 14%, ma avremo modo poi di parlarne più tardi. Ma lei entra in azienda due anni fa e ce ne parli un po' meglio, grazie. Sì, è corretto. L'azienda è un'azienda che ha ormai una storia di più di 120 anni. Nasce da un'intuizione, evidentemente, della famiglia Carapelli che decise di entrare in questo mondo per valorizzare poi l'italianità dell'olio e peraltro fu anche la prima che già negli anni 50 entrò nel mondo della distribuzione, iniziando a vendere e a distribuire il prodotto proprio attraverso quei canali che adesso sono fatti da supermercati e ipermercati. L'azienda ha passato una serie di passaggi appunto fino ad arrivare nel 2006 all'acquisizione da parte della stessa, da parte di un gruppo multinazionale, che è il gruppo De Olio, che è un gruppo leader a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di questo prodotto. Carapelli in Italia adesso è il leader di mercato, leader di mercato, che ha peraltro il grande elemento positivo di questa azienda il fatto di essere trasversalmente presente in tutti i segmenti espressi da questo prodotto, quindi olio extravergine, olio d'oliva, olio di seme. Ricordiamo quali sono appunto i prodotti di Carapelli, che sono gli oli, ma non solo, perché fate anche altro. Sì, corretto, posto che il più del 90% del nostro business è rappresentato dall'olio, anche perché l'olio è un mercato enorme, uno dei mercati più importanti nel mondo alimentare, però è vero che a completamento di gamma commercializziamo anche prodotti quali le aceto, le olive, che poi sono la materia prima per definizione di quello che è il nostro prodotto principale, e una salsa anche, una salsa, una maionese storica che è stata lanciata tanti anni fa da Sasso, quindi da uno dei marchi più importanti che sono presenti nel nostro portafoglio. Poi tra l'altro lei si chiama Sassoni, è il nome nome quasi. Era evidentemente nel destino. Punti di forza di Carapelli sicuramente, oggi come oggi, che sta proprio a passo con i tempi, è anche la sostenibilità e la tracciabilità dei prodotti. Sì, è verissimo. Diciamo che il, come dire, il punto di partenza è la qualità. La qualità per noi è una fissazione, ma lo deve essere, non si può prescindere dalla qualità, soprattutto per un prodotto, ripeto, che ha delle radici italiane così forti, così importanti. Qualità espressa anche poi in una serie di parametri che lei ha appena citato, quindi la sostenibilità, che per noi è, ripeto, un passaggio fondamentale delle strategie degli ultimi anni e che lo sarà anche nei prossimi. Quando parliamo di sostenibilità, parliamo di sostenibilità sia ambientale, per citarle un esempio, già dallo scorso anno abbiamo deciso di ridurre del 14% il quantitativo di plastica utilizzato nella nostra gamma di oli di semi e abbiamo anche deciso parallelamente di utilizzare vetro riciclato per gli oli extravergine e gli oli d'oliva a marchio Carapelli e sostenibilità di prodotto, sostenibilità di prodotto che è legata a una serie di accordi che abbiamo portato avanti con società di certificazione, con agenzie di certificazione e con il FOI, che sarebbe il fondo olivicolo italiano, che ci certifica la sostenibilità di uno dei nostri prodotti di punta, da un punto di vista qualitativo, che è il Nobile. Come io ho accennato all'inizio del nostro incontro, avete avuto un incremento del 14%, questo naturalmente si spiega dal fatto che la gente ha consumato di più i prodotti che normalmente uno utilizza nelle proprie cucine, non essendoci però in compenso poi ristorazione, le attività alberghiere, quindi si giustifica in questo modo però è sicuramente un segno positivo per la vostra azienda. E poi avete dato vita a un'iniziativa molto interessante che è Carapelli for Arts per sostenere a questo punto invece una categoria che anche quella non è andata proprio così bene sono quella degli artisti con l'Accademia delle Belle Arti, se ce lo vuole parlare che è una cosa molto interessante. Sì, Carapelli for Arts è un progetto che è partito quattro anni fa e sul quale abbiamo deciso nel 2020 di investire ulteriormente, proprio come diceva lei proprio per dare anche un ulteriore sostegno alla categoria che è una delle categorie che credo abbiano pagato maggiormente la pandemia e il lockdown ed è un progetto, è un concorso internazionale che premia le migliori opere di artisti professionisti ma anche parallelamente di studenti delle varie accademie di belle arti che troviamo sul territorio nazionale non solo. Io ringrazio il general manager Roberto Sassoni di Carapelli Firenze per essere stato con noi. Grazie e buonasera. Grazie. Un saluto a tutta la famiglia Carapelli e io saluto il nostro pubblico che spero continui a seguirci nella prossima puntata. A tra poco. Buonasera e bentornati a Pole Position, protagonista di questa puntata la DP Vision. Ne parliamo con il direttore generale Francesco Fontanella. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. DP Vision è un'azienda relativamente giovane, nasce circa dieci anni fa, poi nel 2019 subentra lei e ne prende le redini. Cosa succede? Io subentro in questa azienda nel 2019, noi siamo un'azienda che opera nel mercato B2B, in particolare offriamo alle aziende servizi ad alto contenuto tecnologico. Col mio avvento cambia un po' alcune processi, alcune soluzioni che offriamo. Eravamo un'azienda che offrivamo quasi esclusivamente soluzioni legate al mondo della stampa, delle aziende. Negli ultimi anni invece abbiamo inserito anche le soluzioni legate al mondo del visual display. Crediamo molto in un approccio a business dinamico. Questo è stato uno dei motivi che ci ha spinto a inserire nuovi business all'interno dell'azienda. Anche perché oggi il mondo del lavoro cambia velocemente, le aziende hanno sempre esigenze diverse. Questo ci porta anche a noi a cercare sempre nuove soluzioni da integrare alla nostra offerta. Voi siete partner di due importantissime aziende che sono la Samsung e l'HP. In che modo collaborate con queste aziende? Sì, sono i nostri punti di riferimento, la nostra offerta commerciale. Noi approcciamo due mercati in maniera verticale, riferendici soprattutto a questi due importanti brand. Le abbiamo tanto verticalizzate, addirittura che abbiamo invece creato due brand nostri, dal punto di vista commerciale, che sono Data Printer e Display Plastic. Sono due brand registrate con cui verticalizziamo l'offerta di queste due soluzioni. Data Printer si occupa appunto del mondo della stampa, delle soluzioni legate al mondo della stampa, mentre Display Plus è il mondo del visual display, tutto quello che è legato alla comunicazione tramite display. Sono due mercati che hanno delle caratteristiche diverse, che però comunque approcciamo con lo stesso spirito, perché su entrambi siamo sicuri che possono portare ancora innovazione. Anche il mondo della stampa, che è un mondo che ha diversi anni alle spalle di lavoro, oggi con l'inserimento di soluzioni green e di gestione documentale, ma anche e soprattutto di sicurezza, temi che magari in passato non sono stati tanto presi a cuore, riusciamo a dare innovazione anche in questo mercato. Mentre riguarda il visual display è tutto un'innovazione, un mercato in crescita, un mercato in forza di espansione, lì l'innovazione è il verbo principale. Il vostro punto di forza è sicuramente che trovate sempre una soluzione per i vostri clienti, questo vi differenzia dai competitor, che magari sono più grossi, visto che comunque voi siete 15 in azienda, poi avete un rapporto più stretto con il cliente che si affida a voi, anche per il fatto, come diceva lei, di sicurezza dei dati, insomma, con tutte queste... L'obiettivo è sicuramente sapere leggere le esigenze del cliente. Il nostro team di pre-vendita accompagna i nostri clienti a capire realmente cosa hanno bisogno. Evitiamo di aspettare che sia il cliente a dirci cosa ha bisogno, ma cerchiamo di scoprirlo insieme. Diamo molto importanza all'analisi in fase prima di riuscire ad arrivare ad un'offerta, prima di arrivare ad una soluzione. Siamo consci che una buona analisi è garanzia di successo poi in fase di definizione dell'offerta. Tutti i vostri clienti, naturalmente, più passa il tempo, più vogliono digitalizzarsi. Qualche idea in più per il futuro? Cosa andrà nel futuro? Qualche tendenza e qualche idea che avete già voi? Tutto il mercato comunque si sta digitalizzando. C'è una forte spinta verso la digitalizzazione. Ci sono dei temi, però oggi un po' più sensibili rispetto al passato. Questo è dovuto anche al fatto che le nuove generazioni che entrano nel mercato del lavoro sono sicuramente più sensibili agli aspetti della sostenibilità e della sicurezza. Cosa che in passato sono stati colperamente trascurati. E quindi quando noi andiamo in giro a parlare con i responsabili IT, ci fanno sempre più presenti questi temi. Tant'è che noi stiamo spostando sul mercato della stampa l'attenzione al foglio stampato, al documento stampato verso il documento gestito in maniera digitale. Questo perché porta a realtà dei vantaggi verso l'ambiente, ma anche dei vantaggi produttivi, perché il documento digitale è molto più facilmente consultabile e consultabile da qualsiasi luogo. Mentre per quanto riguarda i visual display, lì c'è un mondo da scoprire, quindi dobbiamo digitalizzare l'intera comunicazione che offre un'azienda. Qualsiasi azienda oggi ha bisogno di comunicare, che può essere il piccolo negozio, la catena di franchising alla grossa multinazionale. Le soluzioni dei visual display, soprattutto il software che gestisce i contenuti che girano su visual display, oggi dà la possibilità di gestire migliaia di display in giro per un mondo da un singolo luogo in contemporanea. Questo oggi dà un vantaggio in più a chi ha bisogno di vendere e di comunicare rispetto al passato che si usava magari la cartellonistica. Come dice appunto la vostra filosofia aziendale, l'importante è non fermarsi mai. Assolutamente. Ringrazio il dottor Francesco Fontanella per essere stato qui con noi e per averci virtualmente portato nel mondo di DPVision. Grazie. Grazie, buona serata. E voi restate con noi se volete essere sempre in Pole Position. Buonasera, protagonista di Pole Position di questa puntata Centro Sistemi è con noi il fondatore Vincenzo Pongan. Buonasera. Buonasera, Andra. Buonasera e benvenuto. Grazie. Allora parliamo di questa azienda il cui ideatore è proprio lei. Nel lontano 1987 agli albori dell'informatica lei decide, venendo naturalmente da un passato in Olivetti, quindi insomma con un bel know-how alle spalle, di far nascere Centro Sistemi. Tra l'altro con la sua prima dipendente Anna Maria, insomma questi sono piccoli cenni storici, approfondiamo meglio il discorso. Sì, è proprio così. Ho iniziato dopo un periodo in Olivetti, la voglia di creare qualcosa è emersa e ho incontrato Anna Maria che è con la quale ci siamo trovati subito in sintonia e abbiamo incominciato a lavorare nel settore dell'informatica creando questa società denominata Centro Sistemi. Vi eravate resi conto che alcuni sistemi all'interno delle aziende erano un po' passati di moda, non erano sufficienti per mandare avanti un'azienda. Che cosa vi siete inventati, questa soluzione? Sì, diciamo che inizialmente eravamo proprio agli inizi proprio dell'informatica. Precursore dei tempi, è vero. Sì, sì, in un certo qual modo, sono passati talmente tanti anni. Sì, la cosa che abbiamo subito individuato è che il mercato non aveva più bisogno di classici software IRP denominati tali per contabilità, bollettazione, fatturazione, ma andare a risolvere delle problematiche di una nicchia di mercato, cioè significa andare a risolvere delle problematiche per delle esigenze che molti clienti ci sottoponevano. Abbiamo incominciato con il mondo del fashion, per cui il classico taglia i colori, per poi arrivare al mondo del noleggio e dell'assistenza del service. Ad oggi il prodotto si chiama Hitec ed è un prodotto che consta sul territorio nazionale di oltre 200 installazioni. È chiaro che è molto ampio quello che il mondo di Hitec fa, per cui abbiamo tutto il lato, diciamo, PC, definito tale, e abbiamo anche tutto il lato mobile, che è la parte che la fa da padrone, perché tutto quello che riesce a svolgere dando ovviamente agli operatori è uno strumento tale che gli consenta di poter operare in libertà. Tenga conto che abbiamo oltre mille installazioni del lato mobile fuori, per cui significa che sono mille operatori che al mattino si svegliano e operano con questa app definita tale. Infatti questo vi porta al successo, vantate a oggi circa 750 clienti sul territorio nazionale, siete una squadra di 55 persone, di cui 40 solo che appartengono al reparto tecnico. E questo la dice lunga, perché io so quanto è importante per voi la formazione, la preparazione, la competenza per, diciamo, essere al massimo a disposizione poi del cliente. Esatto, è proprio questo. Diciamo che noi abbiamo sempre curato molto l'aspetto, diciamo, tecnico, inteso proprio della figura del nostro tecnico con formazione, anche perché nel tempo questi tecnici sono cresciuti, come pensi che qualcuno è con noi da 25 anni, sono cresciuti e sono riusciti a fare anche loro un passo oltre non solo al classico tecnico installatore formatore, ma diventare un vero e proprio consulente informatico. Perché? Perché dopo anni e anni di esperienza in queste nicchie di mercato specifiche, è chiaro che acquisisci tutte le competenze, vedi l'azienda come lavora, cosa fa, come si muove. Per cui oltre che a spiegare chiaramente l'applicativo, danno anche dei consigli, tra virgolette, ovviamente, al nostro cliente su come muoversi nell'organizzazione aziendale. A proposito di questo, il fiore all'occhiello di Centro Sistemi e anche il call center, che ricordiamo al gentile pubblico che è sempre a disposizione, ce ne sono 5 che rispondono quasi a 100 telefonate al giorno, cioè di grido d'aiuto e voi trovate sempre la soluzione. Sì, noi ce la mettiamo tutta per trovare la soluzione, ovviamente. Sì, sì, questo è vero, questo è un po' il nostro fiore all'occhiello, dettato proprio dal fatto che l'assistenza in loco, ovviamente, l'installazione, la formazione, quello che dicevamo prima, però se dall'altra parte quando il cliente è in difficoltà non c'è nessuno che ti dà un supporto telefonico o con collegamento da remoto, che ad oggi si usa molto, diventa fondamentale per questo. Per cui ce la mettiamo tutta per poter dare un supporto da questo punto di vista. E per quanto riguarda il futuro, grazie all'entrata di Zucchetti, che progetti avete appunto? Sì, lei ha detto bene, grazie, due anni fa siamo stati acquisiti dal gruppo Zucchetti, due parole su Zucchetti la conoscono tutti, ma oggi è il più grosso gruppo nazionale nel settore dell'informatica, con ovviamente anche un occhio verso il mondo estero. Difatti gli obiettivi che noi adesso ci stiamo ponendo assieme al gruppo Zucchetti da traguardare è proprio l'installazione, diciamo, verso questi mercati esteri dei nostri prodotti. Questo ovviamente sfruttando le nuove tecnologie del cloud. Io la ringrazio moltissimo di essere stato con noi, e questa era la Centro Sistemi, il cui fondatore è stato qui con noi e ci ha portato nel suo bellissimo e interessantissimo mondo. Vincenzo Pongani, grazie. La ringrazio, buona serata. E a voi do l'appuntamento alla prossima intervista, non mancate. E a voi do l'appuntamento alla prossima intervista, non mancate.